Vi ringraziamo tutti, mi permetto di prendere la parola solo per ringraziare in particolare la segreteria anche del convegno, quindi Viviana e Cristina, che è maso per quanto riguarda la comunicazione, perché ovviamente questi momenti sono possibili quando tutta una struttura ci aiuta poi a trovarci in un luogo bello come questo e anche Giosuè in generale, il Comitato Espo dei Popoli, per aver invitato e messo intorno al tavolo queste esperienze così belle di cui siete tutti attori e partecipi. Grazie mille e a presto.